Davide Fantinelli, siamo arrivati finalmente alla raffica di minicloni, siamo pronti per invadere l'Italia e non solo? Sì, prontissimi, anzi già fatto. Quindi grande trasferimento, grande inaugurazione della nuova location, quali sono i presupposti, quali sono gli obiettivi da centrare? Gli obiettivi sono quello di coprire tutto il territorio nazionale il più presto possibile, quindi arrivare ad avere una catena capillare di punti di scansione, in modo che praticamente tutti in Italia possano avere un punto di scansione vicino e quindi potersi fare un minicloni senza doversi trasferire per lunghi trasiti, come succede adesso in alcuni casi. Avverte che sta nascendo quasi una mania vicino al discorso di miniclone? Sì, piace molto, è un prodotto che ha bisogno di essere presentato e conosciuto di più perché di base nessuno, pochi sanno che esiste, quindi prima l'obiettivo è diventare capillari e poi dopo promuoverlo e creare la moda sostanzialmente Ci saranno delle novità in relazione al prossimo autunno e all'inizio del prossimo anno oppure no? Sì, ci saranno delle novità, sarà possibile oltre che fare il miniclone fare il proprio avatar, quindi da una semplice fotografia, un selfie, si può avere un busto o comunque una testa 3D personalizzata e stampata e riceverla direttamente a casa. Quindi si potrà anche addirittura unire un corpo a scelta di un supereroe o di qualsiasi corpo disponibile che sarà caricato sul sito, si potrà essere ordinato come corpo della propria testa sostanzialmente. Ecco, la curiosità ormai divaga, non solo tra i social ma anche dal passaparola, ma come si fa ad avere un miniclone? Come si procede? Per il miniclone bisogna fare una scansione con un'apparecchiatura che abbiamo noi e tutti i nostri punti scansione. Successivamente noi provvederemo alla stampa del miniclone con questa stampante che vedete alle mie spalle e poi verrà inviata al punto scansione o direttamente a casa se è richiesto dal cliente. Per qualche informazione proprio di carattere pratico, esiste un sito internet, ci sono dei riferimenti? Sì, c'è il nostro sito internet www.miniclone.me o .it uguale e se no si può telefonare direttamente a noi 0331642232 o comunque in ognuno dei punti scansione che sono elencati sul nostro sito. Si può scegliere quello più vicino e andare direttamente o anche telefonare.